Tim, figlio mio, ti sembrerà strano, ma abbiamo un segreto. Gli uomini della nostra famiglia possono viaggiare nel tempo. Wow! Tim, mi metti la crema? Ok, fermo. E come si fa? Vai in un luogo buio, pensi al momento in cui vuoi andare e ti ci troverai. Tim, mi metti la crema? Oh, che bello. È la mia specialità. Cosa vorresti? Sarebbe fantastico se così potessi trovare una ragazza. Però, grande impresa. Piacere, Tim. Io sono Mary. Anche mia madre si chiama Mary. Ti ricordo tua madre. Forse avrei potuto dire qualcos'altro. Piacere, Tim. Io sono Mary. Hai degli occhi stupendi per non parlare del resto del viso. E non ho ancora guardato più giù. Vado in camera, mi infilo il pigiama e tra un minuto puoi venire a togliermelo. La prossima volta andrà meglio. Mio Dio! Sei forte. C'è chi rovina tutto la prima volta. Oh, dire tanti. Lei è Mary. Santo cielo, che bella. Oh, no. È solo che ho messo tanto mascara e molto rossetto. Fammi vedere? Ah, sì. Bene. Devi stare molto attento quando lo usi. C'è l'effetto farfalla. È la ricetta perfetta per un disastro. Che bello vederti qui. È la prima volta che ci incontriamo. Oh, no. Ogni giorno fino a ieri è perduto. Come per chiunque altro. Che vuoi fare? Non lo so. Lo devi usare solo per quelle cose che trasformeranno la tua vita in quella che vorresti. Mio figlio. Mio padre. Spero tanto di rivederti. Mi rivedrai. È la mia unica ragione di vita. Anche se non è drastico come sembra. Non puoi uccidere Hitler o farti Elena di Troia, purtroppo. Ma è la prima volta che ne parliamo. Ma è la prima volta che ne parliamo.